L'omaggio a Regina Pessoa si articola appunto partendo da stasera con la mostra dei suoi dipinti, dei corti che lei ha realizzato, ci sono anche i corti che lei ha realizzato non come regista ma come animatrice. Regina Pessoa e Abil Feijoux che è il suo produttore ma è anche uno dei registi più importanti del cinema d'animazione portoghese, quello che è definito e fa autore del rinascimento del cinema d'animazione portoghese, loro sono ancora legati a un'animazione più materiale, più artigianale. Grazie per la visione!